No ai ghetti islamici, siamo a Milano, alle mie spalle ci sono gli ex bagni pubblici di via Esterle che dopo anni di occupazioni abusive da parte dei clandestini si apprestano a diventare una grande moschea capace di accogliere 3.500 musulmani per volta. Siamo nel ghetto di via Padova, una molenbeck in salsa milanese dove oramai l'arabo è diventata la lingua predominante sia per strada che nei negozi e si contano più donne velate che col capo scoperto. Qui come nelle periferie francesi, inglesi e scandinave non siamo praticamente più in Italia e per questo sappiamo chi ringraziare. La sinistra che ha steso un tappeto rosso a chi vuole dominarci anziché ascoltare il grido d'aiuto dei residenti. I cittadini qui avevano richiesto un commissariato di polizia per rendere più sicura la zona e invece si ritroveranno sotto casa il quartiere generale degli oltre 100.000 musulmani presenti tra Milano e provincia. A gestire il nuovo luogo di culto sarà la Casa della Cultura Musulmana che dopo anni di abusivismo è stata premiata da PD e compagni con la concessione di questi 1.500 metri quadrati ad appena 480.000 euro. Ci troviamo in una via in cui ci sono in questo momento altre due moschee quindi questa sarebbe la terza moschee di via Padova e qui in più occasioni sono stati arrestati estremisti islamici. Il sindaco Sala però ha quindi deciso di trasformare un'intera area della città in una baglia islamica senza rendersi conto dei rischi e dei pericoli che una scelta del genere comporterà. Quello che avviene nelle capitali europee dove in alcuni quartieri già vige la sharia e le leggi degli stati sovrani non contano più. Purtroppo non hanno insegnato nulla alla sinistra. Preferiscono piegarsi alla prepotenza dei musulmani piuttosto che difendere i nostri simboli e le nostre radici. Non è questa l'Europa che vogliamo per i nostri figli, mai sottomessi all'islam. Grazie.